Adesso andiamo a vedere l'orto di questa meraviglia, di questa casetta. Questo è l'orto. Oh che bello! Hai asfaltato tu qua? Questa c'era. C'era già? Non mi senti, io ce la metto. Qui c'era la legnaia, è bisogno, ma c'era la legnaia. Qua c'è la legnaia. Eh? Questa è la piastra qua. Questa l'ho fatto io, il cammino. Hai portato tu le piastre, sì, il camminetto, tutto hai fatto. Il cammino poi l'ho comprato, l'ho fatto montare. Sì. Sì, sì, sembra di essere in Liguria. Cos'è per spaventar parte di questo? Cos'è? Questa c'è l'altra madonnina. Là? L'altra madonnina? La saluto ogni volta che arrivo qua. Ah, faccio un segno della croce anche io, non è il padre, il figlio scritto santo a me. C'è la madonnina. Eccola là. Eccola la madonnina. Ah, queste le hai impiantate tu. Che piante sono? No, le piotte, le piotte ho detto. Ah! Queste sono verdure che le ho piantate, ma adesso con via. Che verdura è? È i broccoletti. Broccoletti? Questi cosa sono, olivi? Questi sono i nespoli con la pianta che c'è. Ah, nespoli, nespoli. Questo è un olivo, vero? Questo è un olivo. Vedi, c'è un grappolo. Ma c'è anche un microclima buono allora qua. C'è due o tre grappoli. Due o tre grappoli di? Di nespoli. Di nespoli. Di nespoli da mangiare? Sì, nespoli da mangiare. In primavera escono. Bello, bello. Guarda che cosa. L'orto. Qui c'è anche un misuratore di pressione. Quel misuratore di pressione li funziona, no? Sì, funziona. Sì? Cosa fa quello lì? Col sole va avanti. Adesso fa 10 gradi. Ah, col sole va avanti. Ma è un misuratore... Si, un misuratore da caldaia. Fa 12 gradi, saranno 7, 8. Ah, va un po' di più. Ma è un misuratore da caldaia riutilizzato? No, col sole. Sì, ma... Non va col tubo, vero? No, il tubo... Ma cos'è un misuratore... Di rame? Ma cos'è un misuratore da caldaia? Non lo so, io l'ho trovato qua. L'hai trovato qua. Ho capito. Guarda che bello qui. Tu sono... Ci sono i scalini qui proprio in pietra. Broccoletti anche qua. Broccoletti. Guarda che bello. Sembra l'albero di San Francesco quello lì. Sì, sì, perfetto. Perfetto.